Si è svolta nella sala consigliare del comune di Tortoreto in piazza della Libertà la cerimonia di sottoscrizione del patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra la prefettura di Teramo e il comune di Tortoreto. Da quando sono arrivato a Teramo che rompo le scatole ai sindaci, più telecamere, più vigili urbani e più illuminazione, sempre in forma di prevenzione, di deterrenza per cercare di aumentare la sicurezza, anche quella percepita dai cittadini che è difficilmente misurabile. Quindi sono percorsi complessi ma ormai la sicurezza non è più un discorso di forze dell'ordine, è un discorso di tanti e a cominciare appunto dai primi cittadini. Quindi un maggior numero di telecamere vuol dire senza dubbio una maggior forza deterrente sperando che le cose non succedano mai. Quindi se proprio dovessero succedere grazie alle telecamere oggi possiamo spesso e volentieri la magistratura e le forze dell'ordine riescono poi a individuare i colpevoli e quindi poi il processo eccetera eccetera. Quindi veramente oggi riguarda Tortoreto ma tutti i comuni, tanti comuni sono interessati e siamo in contatto continuo per cercare appunto di migliorare la sicurezza, non solo quella dei dati ma appunto quella percepita dai cittadini residenti o turisti che siano. Il patto per la sicurezza pone le basi e le finalità collaborative tra l'ufficio territoriale del governo e l'ente locale a vantaggio della sicurezza della collettività soprattutto in vista del periodo estivo. Grande soddisfazione è stata espressa da parte del sindaco Domenico Piccioni. È una stretta collaborazione con la prefettura per rendere il nostro territorio ancora più sicuro nel periodo estivo. Noi già stiamo mettendo, posizionando sul nostro territorio altre telecamere e con questo accordo accederemo a un finanziamento dove noi abbiamo partecipato con il 40% delle risorse comunali. Sono circa una decina le telecamere di ultimissima generazione che verranno aggiunte a quelle già presenti nel Comune Costiero. Costo dell'operazione è circa 150 mila euro. È assolutamente importante potenziare le attività di prevenzione ma anche di repressione eventualmente di atti dilettose. Noi siamo una cittadina tranquilla però ovviamente soprattutto nel periodo estivo aumenta la popolazione, ci sono i gentili ospiti e quindi è giusto dare maggiore sicurezza e potenziarla. Questa come anche attraverso un sistema di videosorveglianza, quindi un sistema passivo che possa controllare il territorio, cosa succede in modo che le forze dell'ordine possano in collaborazione intervenire, magari dovesse accadere.